Alessandro, com'è andata la tua prima sessione di trading? E' andata bene, è andata bene questa mattina, nonostante il mercato abbia aperto molto negativo, le notizie sulle Deutsche Bank hanno penalizzato decisamente le quotazioni, comunque con un po' di tentenamenti siamo riusciti ad andare contro trend, con qualche operazione piccola, appunto contraria, di scalping, abbiamo portato a casa un buon risultato con due operazioni, meno personalmente, ma anche tutti i miei colleghi, quindi siamo molto contenti, vediamo poi nel pomeriggio che la cosa dovrebbe anche migliorare. C'è un libro che ti senti di consigliare a chi vuole diventare un trader professionista? Al di là del fatto che fare trading discrezionale ci vuole molta esperienza, però credo che sia necessario avere un po' di, anche vedere quello che hanno fatto gli altri, una certa verifica statistica, quindi almeno vedere come funzionano le cose dal punto di vista statistico-matematico, per vedere se poi funzionano davvero sul mercato, e quindi è un libro che io ho trovato interessante tra gli ultimi che ho letto, è quello del mio collega Enrico Malverti, che si chiama Trading System Vincenti, lì c'è la prova statistica che determinate strategie funzionano, e poi ovviamente aggiungo i miei due libri, che sono doveroso dirlo, in corso di pubblicazione, che anche questi riguardano poi il trading stagionale, sia sul mercato italiano che sul mercato estero. Grazie a tutti.